Ciao a tutti amici pro e amici in hard, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video con tre iscritti Praticamente a parte Tranec era già presente in parecchie avventure su GTA Perché praticamente su The Master of Warfare ci sono stato io, povero stronzo, che ho comprato la Collector Edition di questo gioco E quindi anche il season pass, e quindi ho pensato di farla con degli iscritti e non, insomma Per cui, l'idea quale sarebbe? Intanto si chiamano, giusto, Lorenzo, che sarebbe Whippy e Spoon, Abismo e Cross che sarebbe Luca E Trane che si chiama Leonardo, giusto? Sì Sì Vi risulta? Quindi ho indovinato Ok, intanto direi di fare un mondo E in pratica cosa succede adesso? Succede che se arriviamo al round 25 abbiamo raggiunto l'obiettivo Se moriamo prima nel round 25 siamo degli sfigati e niente Abbi, arriviamo al round 24 Ma dove cazzo era la stanza Exo? Non mi ricordo Nelle fogne, in pratica la mappa cos'è? Nelle fogne Cioè le Burger Town No, no, già ci abbiamo giocato Le fogne Già ci abbiamo giocato Io sono la tipa No, no, no Tristezza Allora Con calma Quanto costava? 1.5 Passiamo prima da qua Allora, c'è questa zona Poi c'è una zona appena qui fuori Poi ci sono le fogne Poi c'è le Burger Town Ma sono 4 zone in pratica Passiamo prima da qua È ancora più piccola della mappa base Dracoon, passiamo prima da... Ah dai, l'inizio è cazzeggio e basta Quindi fino a che non arriviamo al round 15 è una cagata Ma laggano gli zombie Ma infatti Madonna Minchia, oh che console Gatti di lag Apri il comando Atras, femelli C'è la cassa di qua Sì, è vero, è vero C'è la cassa Fatemi fare la cassa prima a me Fermi tutti La voglio provare Uno alla volta ovviamente Ah, qua apri il culo cammina 580 Allora, vediamo il culo Guardalo No, 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 fermo, fermo Fatemi concentrare Tanto solo tu, c'è la cassa Oddio, chi cazzo Ma vai a cagare E' l'inx Che te cammitato Ma porca, oh, io, oh, che si inizia proprio con le bestemme Dai, cazzo, a me non da finire Sì, va bene, mi fai Guarda, c'è già i zombie rossi Guardalo, guardalo Ci uccidere la famiglia, Luca Sì, però, ci sono un po' troppi zombie Ho finito, eh, allora, munizioni IEM, oddio Veloce, veloce, no, raga, no Aspetta, aspetta Cazzo, fase Minchia No, che schifo Cos'è? Il PDV Che schifo Posso provare? Grazie No, aspetta, ne manca qualcun altro Eh, tu No No, no, tutta me Tu c'è la KM che culo Train Ce l'ha Aspetta, aspetta Aspetta Tre in gelai Cosa cosa c'è? L'arma Ma si è già presa Ma No, buona, buona, buona Buona Uh, Cristo Madonna Questa non è male, il fucilopopo automatico Ma chi c'è? Oh, crediti Cazzo Esplosimo, zombie davanti Eh? Con quale vocina? Eh? Sono una tipa col cecchiva, col trailer di Ghost Ok, basta La cabrata qua Allora, c'è uno lì Oh, c'è uno lì Di qua Dov'è? Qua dove sono io Cazzo, sono caduto il buco Cazzo, sono caduto il buco Sì, è lì sotto nelle fogne Andate con una contaminazione Salviamo il superstite, sennò poi ci danno dei Sì, sì, vai Oh, credito Minchia, ma siete delle cazzo di avvolto? Minchia, c'è palle Dai, il superstite, corri Il superstite salvo Potenziate l'arma giusta perché Ok, perfetto Ma perché Minchia è potenziata l'arma? Allora, dobbiamo andare al Burger Town, ragazzi Eh, il bonus del superstite È il bonus del superstite Dai Troppi Eccola la granata del palco Oddio, aia Fatto una cagata No, perché abbiamo un attimo di strat Eh, io mi sono incastrato da solo Oh merda No, non ci credo Eh, vai Bella lì Eh, vabbè, ma cos'è? Ma neanche ci sono arrivato Ragazzi, dovete correre veloci a prendere la vita doppia Sennò continuiamo a fare fail su fail Eh, no, io non ce l'ho trovato Madonna, io sto spuntando Io non ci credo, cazzo! Nooo, ma ne... di continuo dai punti alti diventa un po' io l'ho aperta prima tocca me raga tocca me dai e ma io c'ho 2000, l'aprivo e facevo pure cazzo si cazzo si figa godo leggi godo come una troia ma che culo madla è qua io 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 cagare godo come una puttana ora tipo mi capita il cecchino ma va a fa la granata la granata pure io se arriva la granata si può ronda io ve lo dico buona 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 io tento di scularla ancora ah l'han tolta no ma chi sono questi qua con gli occhi bianchi ma infatti che cazzo sono ma che fanno quelli con gli occhi bianchi ma che ne so vediamo un po' che prende che cagata dietro per uno e ha capito il tac 19 cazzo goliate ho sconato qua dove c'ero io cazzo fatelo venire da bu ottio arriva arriva cazzo è cazzo è cattivo questo oh li sparo da dietro cazzo spara con una paletta ma li dai i soldi si li dai i soldi minchia che figata è morto minchia l'abbiamo arato vivo ma la cassa dov'è forse neanche c'è si che c'è oh io devo andare alla decontaminazione dietro 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 è il punto di spawn iniziale raga io vado occhi chiusi si cazzo sono andato occhi chiusi raga copritemi copritemi ma comunque non ho munizioni per dopo si dovete coprirmi e farmi si cazzo si vabbè copritemi sono pieno di gente dai cazzo mi copri con il catalizzatore veloci arrivo madonna no dai 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 madonna no riavvio ex di nuovo di nuovo di nuovo aspetta vado vado scappate via dai coglioni ho lasciato uno per terra vai via vai via vai via se non ti prendi eh medico tana eh io però stavo morendo aiuto basta corri raga dobbiamo contenere la situazione adesso dovete prendere il medico exo medico exo subito levatevi dai coglioni non state in mezzo mammi madonna salgissima medico exo raga prendete il medico exo che cazzo ma io l'ho preso io eh è morto cinque volte che ha crashato che è crashato e fa 3 è uscito vai ondata d'energia no cazzo era aperta da no dai zona tossica di satinio si a me vuoi pure non mi fa collettare non me l'ho mai server ma che bel gioco con non mi fa non mi fa se non mi fa si buone noti che è sbagliata che ma vero non c'è il tronco sono la donna nasa che ho mai colpito l'unico ma che cazzo che è un non lo so non lo so io lo rifaccio o 430 mi ha detto che non è un po' aiutato il catalizzatore mi esalti dai a o e' un'altra con dietro da con dietro di aria aiutato il titolo è il pubblico e non c'erano che era anche un uomo inizioni se abbiamo trovato il suo posto che diceva al punto la rai per spalino il piccolo e non muore un po' di poca n un'altra ragione da un po' di pelle l'avimenti che la prendo io, usiamo in caso di... papà non la prenderà mai, te prendi la torretta, la prendi vaffanculo oh, mi hai fregato te allora la sai usare, se perdiamo poi che cazzo facciamo vai tranquillo, Dio vada munizioni al massimo NOOOOOO l'arma prima era il canalizzatore, figa lo stroi ho trovato un'altra mitrazione zero, raga dai, andiamo verso... vaffanculo testa di... vaffanculo ma vuoi scendere, nonchia quel gioco il links Cristo va a provare una volta me buona, buona tranne, buona oh, raga, lì c'è lì per danno lo vado a prendere, però dovete coprirmi vai è ancora infetta vai vai oh, ma c'è la tossina oh, munizioni luca, apri questa cazzo, che carneficina vieni vieni eh, boh, vabbè qua ah, perfetto no, no, no porco porco tutta l'arresti che ha morto vinto, ho rotto i coglioni no no no, ma che cazzo fa raga marito eh, che cazzo come nelle foglie è un casino mi rianimate anche si, siamo morti entrambi non ce la fanno, siamo morti entrambi bello draghi bello draghi, bello dividersi andò a fare pure tu stai affogando tra l'altro i train dai, dai, dai ma perché non usare le granate mentre sei morto, porca troia eh, non dovete dividervi nelle foglie, porca troia si, cazzo vai, Luca vado io no, no, c'è che meraviglia dai, raga, chi ha, no, train, vai si, ma non prenderlo a caso, cazzo, concentrati un po' eh, ma è quella, è la cosa più bella andare a caso ma poi trovate la balestra e li lamentate, poi stavate la prendo io la mimetica, tre introdate, non ti ricordavi ma, cosa c'entra? avevo comunque 5, 5, 6 zambia addosso quella che fa il raggio da piede si, si, si cosa? a me è lì io comunque ho ancora le due armi molto forti, eh quindi se perdiamo anche stavolta io veramente non so più cosa pensare no, vada su vada su uh, bella quella granata, chi è che la trovate? io bravo qua servono anche le scimmiette oh, io lancio granata, cazzo cazzo quanti soldi che sono cazzo vai vai madonna il casino e vai granate ricaricate invece c'è raga dovete prendere la vita doppia subito è morto no? comunque i round si disputeranno qui al burger town oppure dall'altra parte dove c'è il benzinaio tipo mai in mezzo, mai, per nessun motivo eh, però se c'è le superstite il superstite il superstite terremo in considerazione solo il prossimo gli altri li lasciamo lì raga dovete aprire quest'altra zona 1500 serve, venite qua eh, non faccia mai wait aprite, se no moriamo eh, sono un po' impegnato uh, iperdanni no oh, cacuna eh, prendigli iperdanni bravi coltello e basta madonna tu eri incastrato non riuscivi a uscirne coltello e basta, coltello e basta ci servono soldi in sto gioco coltello e basta oh, dovete usare sti cazzo di pugni oh, Alex, Alex ma si è finito eh, non più però hai ragione dovete usare i pugni è finito su, è iperdanni c'è la luce da attivare anche gett ce n'è un no zoppolo la lasciatelo lo zoppo lo zoppo lasciatelo eh, eh eh oh, no, è vivo, è vivo è vero è vero aspetta E trying ah, no, eccolo eh eh lasciatelo l'arguardo poteca nooo arrivo 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 lo zoppo ma zoppato lascio indietro nessuno serve anche il medico da battaglia raga, dovete prenderlo no chi è che l'ha ucciso ma che cazzo fate forse è la mia torretta che l'ha ucciso ma perchè hai messo la torretta raga veloci dobbiamo fare questa missione di salvare il super siete veloci è sotto train dove vai arrivo allora l'ora devi usare le granate speciali che li rallenta ok e qua siamo nella merda vai ho messo l'alligatore poi ho messo anche il premio drone io quanti occhio siamo assolutamente liberati con la salvezza ah che sta succedendo dov'è il superstite ah sopra 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 te lo stanno scordo su vai scortare raga scortare avi sali su avi ce l'abbiamo ce l'abbiamo arrivo eh ha capito però non è che ce ne sono due di zombie ah no non c'è nessuno ma la cassa alla coi soldi dov'è ci stanno quattro cani che mi non c'è nessuno ma dove sta andare sta dal burger dai ce n'è uno zoppo ce n'è uno zoppo ce n'è uno zoppo lo l'ho fatto sì sì ti si lascerò abbiamo un sacco di soldi dobbiamo investire se non lo uccide la mia torretta sì minchia stato torretta rotto i coglioni eh no ok è stato di su eh però ce n'è un'altra di torretta di chi è l'ha ucciso ma coprite il superstite porca oh raga coprite il superstite oh occhio dietro si si è salvato oh c'è uno zombie qua c'è uno zoppo zombie zombie vai vai prendete le armi che me le potenziano arma giusta prendete per me è uguale però vabbè a me mi manca un pair che poi ce li ho tutti no perché c'è il minimo termico l'ameli m4 mk4 ma veramente che cosa è eh sì oh il catalizzatore l'ho trovato ragazzi grande potenzialo però sì no dai oh aiuto un vero spianto mi scordo che c'ho le granate a impatto porco giusto usate le granate usate di tutto per rialimarlo metterla mimetica metterla mimetica ci ho pensato io no sono infetto sotto dovete andare venite sotto e ci sono manca l'infetto oh aspetta eh vabbè figlio allora io copro a destra io e treina a destra e gli altri due a sinistra ok ok il problema è che tu tanti da dietro eh infatti è infettato disinfettati disinfettati eh quando si infetterà qualcun altro di voi ok ah grande madonna guarda guarda come muoio guarda come muoio sono infetto sta ricascurando ah dai aspetta usiamolo quando siamo in tanti infetti minchia non sprechiamo soldi l'ora è quando li ammazzi l'ora è quando li ammazzi con la decontaminazione di tutti dei punti no vai vai tutti aspetta 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 tutti alle docce no ho un shopping unit no ma io ancora c'ho il catalizzatore che non lo sa eh non so che fare non c'ho niente oh che culo ok vabbè che culo te la da sempre ok dai andiamo a Burger Town veloce qualcun altro prendo il drone raga il giro il giro attorno a Burger Town bomba DNA raga fermi vai e vai livello 3 e ovviamente il moltiplicatore arriva dopo ovviamente al cambio round raga trovatevi sopra Burger Town dovete vedere una cosa ragazzi vi serve come copertura ditemelo che sparo le gambe fermatemi what no ma sono finito sono morto dentro la mia granata ehm sono dentro la mia granata arrivo 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 bravo Tran 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 ah damn it si ma non c'ho armi forti cioè lei 4 che ora non fa un cazzo e il sacco è il sacco ma sono una torretta robot dietro Burger Town che tanto mi prendo quella scoda vai arrivo 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 cos'è che c'è? qual'è il problema? abby qual'è? perché stai continuando a morire? perché io non c'ho armi forti che armi hai? come no? lei 4 che ora non fa un cazzo eh potenzialo potenzialo eh sì adesso me la potenzialo potenzialo anch'io raga prendete oh no non fa vera nessuno ma sto organizzatore a livello 4 no perché sti minini su ste armi perché mi rino arco porca puttana la medico schifo minchia è fortissima comunque la mina perché dovete vedere anche una cosa venite qua davanti al libertà qua dove sono io venite qua è meglio fare il giro orario anti orario perché se facciamo i giri inversi poi ce la prendete nel culo quindi dobbiamo capire sta cosa cioè è meglio andare di qua dove sto andando io di qua e fare il giro così o da quest'altra parte orario no forse di qua di qua? orario orario sì così va bene allora facciamo orario avete capito? oh ce n'è uno dopo è tutto di merda è ammazzato siamo all'inizio round è morto raga in giro orario siamo tutti vicini dai partiamo vai due sparano avanti due sparano dietro io e train spariamo davanti mentre facciamo il giro voi due dietro ok allora noi copriamo dietro e dai train sempre davanti porca puttana non c'è troppo no raga fermi sbagliato non ha cagato anzi no non lo so i due che hanno le granate e quelli che li rallentano è meglio se stanno davanti o dietro aicchia eh non uccidermi d'animo fatto davanti o dietro con le granate forse è meglio di pietro da uno dietro e uno davanti è meglio eh anche secondo me quindi io e train guardiamo davanti voi due dietro come avevamo detto prima sì ok quindi però se non ci schiatto magari non è anche l'ex perfetto io ho buttato tutte le munizioni ah è vero inizia il malus se c'è sta roba è vero ma vaffanculo e quindi io non posso manco più potenziarmi ah no bello ti ho rianimato subito cazzo neanche in tempo di morire è utile ah è perché ho la cosa medico da salto che ti ami lo stiamo non sono granate dannazione in caso di se siamo in crisi ovviamente scappate noi dobbiamo stare costretti a star lì a cazzo io sto continuando a girare io cerchiamo di stare sempre a girare però in caso stai morendo cioè toglieteli ma perché il minotermico non mi segna che ho danni che subisco danni e non usarlo il minotermico dai vai 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 ma per me ma che va beh è quando no se è il catalizzatore scarico ho finito no non mi posso reanimare l'arma cazzo raga che cazzo fate ma perché a potenziare l'arma adesso dai ehi son morto via via subito via stavo cercando di andarla ad aiutare adesso mi hanno ucciso ragazzi tranquilli sopra la bilete non fate cazzate usate la mimetica se volete rianimarmi mi fate anche un piaccio vai grazie via 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 no cazzo rianimiamo Luca arrivo arrivo rianimiamo che è morto questo gioco fa schifo ho perso tutti i pezzi te 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 bravi io ho perso giusto un perche ho perso solo uno sti cazzo qua è un perche del cazzo ho perso lo schianto chi se ne fotte io ce l'ho ancora io ho il medico però io ho il medico non dovevi farlo per ultimo però cazzo eh a quello che avevo non avevo punti anche i granate impatto raga usatele sono furtissime ma quelli con gli occhi bianchi che fanno raga non morite sei l'uomo dai dai e io ho perso la salute vabbè dai vi rianimo vai non mi avete rianimato allora raga una regola è non andare a potenziare le armi da round in corso perchè qua è una trappola andare lì sotto ok a fine round ci andate vai entrambe livello 7 io 6 e 7 dai non mi avete rai di prima correte veloci non è più infetto ma per qua andiamo dove c'è la disinfestazione la macchina eh grazie abbiamo capito non è sempre infetto dovete cercare di evitarla però la zona intossicante eh ma io appena non stavo uscendo mi ha infettato ah è veloce dobbiamo andarcene via da qua usate le bombe quelle che rallenta veloci vai vai vieni qua ti offro io vai via 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 dobbiamo andare dall'altra parte raga dall'altra parte non ognuno per i cazzi suoi chi è quello là che è già andato io ah raga figa io sono indietro ancora se ognuno va per i cazzi suoi perdiamo andate non mi rianimate ma cosa train puttana merda aiuto exo dai sei andato per i cazzi tuoi sono morti dietro porca troia ma cazzo minchia ma ce la fate dai che io sono fuori dai veloce veloce eh veloce che cazzo se non lo aspettiamo guardate morto vabbè train è andato da solo non è colpa mia ma io riesco a stare da solo eh è vero infatti si però non te ne ho dai ho il catturizzatore merda ho il catturizzatore gloria te lo puoi riprendere dopo lo so il problema è che non so che ce la fanno minchia perché ho arato il mondo con quella arma con te chi l'ho fatto 431 eh si si ma tanto dai potenza metti sto drone minchia sto gioco usa la granata 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 train no no veramente 30 c'è non mi aveva preso morto 3 ma che è stato solo ma sto giusto non mi ha preso come la merda ho fatto usare la mimetica forca troppo no no ho perso tutti percazzo tra le soldi ci avrete spero la salute e il medico no io sì io sono sicilio io quanto ho 4 mila no per me chi spara cosa fa sto stai esbo a xbox aperto il kinect madonna ho poco a me tutti questi problemi non li dà eh voi ora la console fallare conte voler grande gioco dell'anno di ammiglia che a te l'indosis posto guardare alle 2 bellina paventa passare uno per darlo ocaso non serve niente niente pezzo ancora tb 3 nord 3 un sale magari la cura dei cosa ne trova i 3 3 e 1 a vado quando lo vuoi fare ma mi è la sua situazione sotto controllo vabbè mi si sblocca l'ex come dici tu vado un attimo dall'altra parte e che cazzo ma porca co lo fate apposta cazzo ma io ti giuro che non mi prendono muoio comunque no al round 18 no abbiamo perso oh raga dovete aver fiducia io sono un pro gamer si sei da solo però ah il train eee vabbè 3 vuoi usare una torretta no eh infatti no no vuole farci perdere tu vuoi arrivare al round 18 no ma hai pari della luce che rompono i coglioni ma stai finendole eh eh 8% ma meli mk7 si è buggato ma è sempre red 1 guarda che gioco guardalo schifoso ma dai ma guardalo guarda che gioco ho fatto il salto e non me l'ha preso nooo io lo odio sto gioco fa cagare la partita termina con il rage with i dragon il non usare le torrette funziona ma sei un gioco di merda madonna non chiede ancora perchè ce l'aveva e non ce lo scaffale sto gioco ma che cagare fa sto gioco da una mille ecco faccia delle torrette Lore ma lui non l'hanno preso mai non l'hanno preso mai non l'hanno ma che cazzo ti farà mai di volta come l'hanno ammazzato i colpi wireless i colpi wireless ma se ho fatto un doppio salto quando gli zombie erano ancora lontani mi dite come cazzo ho fatto a prendermi quello zombie blu ve lo spiegate? sto gioco è una merda fa cagare basta e poi si incastra in mezzo agli zombie è ritardato proprio c'ha un esoscheletro e si incastra lui ma vaffanculo va e quindi quindi e famo non so non so che cazzo io lo porto nel video che non sto peccato che ce l'ho in digital l'avrei venduto ci siamo andati al round 19 con con gli sconosciuti cazzo ma appena ti metti a giocare in coop serio sto gioco diventa uno stronzo i programmatori di sto gioco sono più ritardati di quelli che giocano sto gioco guarda cazzo basta battlefield e io sto dark souls e io stacco direttamente se è giocato è uno spacco da console ti lanci dalla finestra in xbox e faccio come Dani mamma mia la finestrazione dell' xbox no ma veramente mi sdegno ma che schifo di gioco porca troia che schifo minchia senza dignità sto gioco ma mi eh la situazione è sotto controllo oh raga dovete avere fiducia io sono un pro gamer guarda che gioco guardalo guarda che gioco ho fatto il salto e non me l'ha preso io non odio sto gioco fa cagare che gioco che gioco che gioco che gioco